La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave 18. Come ricorderete, la nave venne trattenuta in porto con 177 migranti a bordo tra il 20 e il 25 agosto scorsi. Ad annunciare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Catania è stato lo stesso ministro in una diretta Facebook, leggendo l'atto notificato e firmato dal procuratore Carmelo Zuccaro. Salvini è indagato per sequestro di persona. Mi auguro che la richiesta del procuratore sia accolta, ha detto il ministro Salvini. Io andrò avanti lo stesso. Mi pongo una domanda. Ma chi ha indagato? Cosa ha indagato? Lo dico con tutto il rispetto per la separazione delle carriere, senza intromettermi. Il procuratore ed egrigento patronaggio, chiede Salvini, perché ha indagato? Quanto è costata questa inchiesta? Quante persone ha coinvolto? Quanti uomini della giustizia e delle forze dell'ordine sono stati allertati per un reato che non esisteva? C'è da fare una riflessione, ha concluso, anche su come funziona la giustizia in Italia.